Allora Giacinto, dal 9 al 13 maggio 2022 c'è la terza edizione della EA Week che è per tutte le aziende che producono soluzioni di artificial intelligence e che vogliono parlare soprattutto al cuore degli imprenditori italiani. Quindi c'è un target lì a disposizione per te che sono gli imprenditori manager italiani ma ci sono anche gli innovatori quindi tutte le persone che in azienda si occupano di questo di portare innovazione e loro sono lì hanno acquistato il ticket della EA Week terza edizione e che cosa devi portare? Cosa devi raccontarli? Devi raccontarci un tuo use case qualcosa che ha funzionato puoi farlo anche con il cliente lì insieme a te con cui puoi dialogare e 25 minuti per dire a tutti come sta l'intelligenza artificiale innovando un settore. Perché devi farlo adesso perché la macchina organizzativa della terza edizione della EA Week è partita, ci sono stati 10.000 partecipanti nelle prime due edizioni, tanti bellissimi partner tra cui Forbes, tante belle convenzioni. Sì sì, con Assintel e tutto il mondo industriale è insieme a noi per questo evento e se prima parti porti a casa un sacco di lead. È vero ce ne sono state più di 4.500 nelle prime edizioni quindi occhio perché il tempo stringe e fai la tua candidatura, c'è un link qui da qualche parte sicuramente sul sito, compila il form, noi ti aspettiamo e ti chiamiamo. Ciao!